Musica Qua Spiroleca è già tempo di pensare a gara 4 di domani sera, sarà una partita sicuramente un'altra battaglia, l'obiettivo ovviamente è quello di tornare a Treviglio mercoledì. Sì, dobbiamo provare con tutte le nostre forze, come abbiamo fatto oggi, impostando la partita iniziando dalla difesa. Cercando di limitare le loro bocche di fuoco, sia Fraser e Nicolich, ma anche gli altri Sterni Pepe e Sarto. Però sappiamo che non sarà facile, una partita oggi l'abbiamo limitata di abbastanza, però dobbiamo essere bravi a bello stesso atteggiamento. Mi preoccupa solo il discorso energie, perché è la quarta partita in una settimana, per questo dobbiamo essere bravi, adesso con il staff medico, a cercare di farli recuperare, a cercare di limitare i darri. Vediamo AJ domani come sarà, perché con il dolore che ha fatto, vediamo se è della partita, in che condizioni arriverà. Oggi ha stretto i denti, ma giocando in maniera ravvicinata non è detto che è facile di essere al 100% domenico. Grazie. 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 Grazie.